Siamo a Fano, nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Battisti, dove il Circolo Bianchini ha presentato un libro interessantissimo, cioè La pena al di là del carcere. Siamo qui con tre dei quattro autori, uno purtroppo per impegni non ha potuto presenziare. Siamo con il professor Paolo Bonetti, con il dottor Mario Della Dora e con la dottoressa Silvia Cecchi, professore di filosofia, psicologo e magistrato. Questo libro analizza il concetto di pena. Noi chiediamo a ciascuno, dal proprio punto di vista, come viene esaminato, come viene analizzato questo concetto? Partiamo dal filosofo. Dal punto di vista filosofico, credo che bisogna superare il concetto retributivo della pena, che è un concetto non solo, a mio parere, inadeguato dal punto di vista morale, ma anche da quello sociale. La pena come retribuzione non sana le ferite sociali, inferte dal reato. Una volta stabilito questo, che non si tratta di retribuire, ma di ricostruire, consegue la necessità di intraprendere strade alternative circa la pena. Il carcere non deve essere immediatamente totalmente abolito, ma dobbiamo comunque procedere sulla strada di un pluralismo delle pene, come io sostengo nel titolo del mio saggio. Bene, invece dal punto di vista psicologico? A me interessa particolarmente il discorso del capire prima di tutto sia il re o sia colui che commette il reato, sia la vittima. Perché? Perché solo capendo che cosa è successo nell'ambito dei fatti che sono intercorsi, noi possiamo intervenire per fare quel percorso di cui parlava il collega amico Paolo Bonetti. Cioè dobbiamo ricostruire in questo caso una relazione tentando delle soluzioni che ancora sono in buona parte da reinventare in qualche modo, perché abbiamo ancora un diritto, cioè non un diritto, abbiamo una consuetudine retrata da questo punto di vista. Io penso che sia estremamente importante capire le due diverse posizioni e la strada, come poi ho fatto notare nel corso dell'incontro, non è quella della vendetta ma è la strada di una ricostruzione di una relazione che va in qualche modo compensata nella direzione della vittima. Dottoressa Cecchi, la pena però dopo va a inserirsi in una realtà giuridica e mi sembra che il ragionamento dal punto di vista giuridico da come ha esposto parte, prende via da altre logiche probabilmente. Sì, io ho cercato di evidenziare come esista una cesura tra l'entità reato e quindi il diritto penale sostanziale e il diritto sanzionatorio. Quindi lo sforzo di riflessione è nella direzione di recuperare la sanzione penale al mondo del diritto. Quindi creando un ponte con responsabilità da reato anche sul piano e il versante della sanzione, creando quindi una sanzione ugualmente relazionale, quindi impegnativa, responsabile, voltata verso la vittima, verso la società e quindi il discorso si amplia in questa direzione. Naturalmente tenendo conto sempre che ci sono forti esigenze di sicurezza sociale che però non vanno ricondotte automaticamente all'idea della pena giusta. Si tratta di ordini diversi che vanno in qualche modo assolti, esigenze che vanno assolte secondo domini diversi, criteri diversi, non confondendo i due piani. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.